Ciao a tutti ragazzi qua da Exta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online con nuove gare stunt finalmente ragazzi oggi abbiamo un po' di gare abbiamo questa prima gara ragazzi un po' veloce partiamo con la Deveste 8 auto veramente fantastica e partiamo subito ragazzi allora vediamo un po' oggi ragazzi faremo qualche gara questa qui diciamo una gara molto rapida un po' del riscaldamento non lo so però ovviamente già c'è la scia ci sono cose particolari allora prendiamo subito il turbo vai 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 andiamo ok checkpoint preso ragazzi abbiamo un loop tra pochissimo praticamente siamo all'aeroporto questa è una gara ragazzi tutta rapida veloce all'aeroporto vai 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 ok bellissimo salto qui checkpoint preso ragazzi e si vola uno è volato fuori uno è volato diciamo un po' troppo comunque volevo dirvi ragazzi che in descrizione trovate il link della crew se volete entrare diciamo che dovrebbero essersi liberati un po' di posti quindi se volete potete tranquillamente unirvi e giocare con me allora qui siamo in seconda posizione ragazzi ora non so se l'auto davanti a me sia più veloce effettivamente oppure no della Deveste 8 sinceramente ragazzi non lo so però ok siamo andati entrambi fuori quindi non c'è problema non c'è problema ripartiamo in quanti sono andati fuori e forse soltanto io è il primo e vabbè sono ragazzi in sesta posizione qui abbiamo una rampa altissima e niente diciamo che i giocatori avanti sono andati un bel po' avanti devo dire sono andati un bel po' avanti quindi non so effettivamente se riusciremo a recuperarli però vediamo ok atterraggio buono prendiamo un po' di scia da questo ma che ha fatto quello si è fermato buono lo so non lo so ragazzi misteri forse forse è mancato il checkpoint non ho idea perché io guardavo la strada vai ok salto anche qui ragazzi bellissimo qualcuno è ricomparso e vediamo un po' vai ce la faccio ce la faccio e diciamo che se lì avevi la scia superavi tutto e mancavi pure questo checkpoint qua quindi un po' negativa ragazzi un po' negativa come cosa arriva nella rampa non fare scherzi perfettissimo comunque si è una gara ragazzi veloce diciamo che non c'è chissà quale abilità però nei tubi un mini recupero lo potremmo effettivamente fare vediamo se questo riesco a superarlo così ok questo l'ho superato ragazzi un po' di velocità nei tubi vai 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 andiamo così curva ok wallride qui andiamo 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 niente vabbè gli altri io non credo di recuperarli perché ormai siamo arrivati più o meno credo alla fine della gara credo di sì c'è soltanto un giro sì ragazzi siamo alla fine quella è la parte iniziale vabbè comunque insomma ci sta gara riscaldamento non c'è problema occhio il checkpoint l'ho preso mamma mia era in alto pensavo pensavo di non prenderlo quasi ragazzi andiamo praticamente a concludere qui c'è il traguardo ok quinta posizione quarta va bene il compagno si è fermato bella gara adesso andremo a fare un'altra clip bonus ragazzi questa è la novità del canale vi metterò diciamo in mezzo alle attività delle cose ragazzi assurde giusto per variare un po' in mezzo alle attività allora guardate qui un tunnel pieno di questi giochi ragazzi retro veramente qualcosa di impressionante vai andiamo con l'abbati dentro mamma mia tunnel ragazzi assurdo qui c'è pure uno che gioca guardate qua un po' un po' un po' nervoso direi lo investiamo ok ragazzi è stato investito vabbè lo lasciamo giocare e qui ci sono pure gli schermi con i giochi della sala giochi di gta del dlc veramente impressionante comunque ci buttiamo giù e andiamo vai mamma mia ragazzi rampa estrema velocità con l'abbati vediamo un po' uh mamma mia sto così per andare fuori e andiamo vai velocità velocità qui abbiamo il mega turbo con il tubo enorme ok però sono caduto giù vabbè un pochettino buggato ok siamo finiti in acqua ragazzi e questa era la clip bonus di oggi passiamo alla prossima gara altra gara adesso ragazzi abbiamo la t20 però è una gara multiveicolo quindi una gara parkour multiveicolo quindi insomma la t20 credo durerà veramente pochissimo partiamo subito è qua qui sotto dove andiamo qui non lo so buh ok sono morto buh ragazzi non lo so il checkpoint era a sinistra è solo che devo dire mi butto da qui dovrebbe funzionare giusto si allora praticamente c'era quella freccia no che mi ha totalmente ingannato vai ci devo arrivare per forza non fare questo fail arriva il checkpoint andiamo con calma ragazzi ok perfetto allora non sono più diciamo come dire allenato però diciamo il checkpoint col paracadute lo devo prendere questo qua non lo posso mancare aprilo ok perfetto che poi volendo si potrebbe anche tentare di aspetta atterriamo qua non voglio fare non voglio fare cose strane comunque stavo dicendo che volando direttamente ragazzi si potrebbe anche riuscire a prendere il checkpoint morendo perché poi perché poi muori però si potrebbe pure provare tipo così vediamo se ce la faccio vai uh ok ragazzi mamma mia e sono pure rimasto nella rampa sono pure rimasto nella rampa allora andiamo subito a destra si qui praticamente abbiamo eh l'auto ragazzi lifeguard quindi in sostanza l'auto dei bagnini si l'auto dei bagnini infatti c'è pure una tavola da surf però mi sono bloccato vai niente sono caduto giù ricompariamo eh ragazzi praticamente questa gara qui sarà sicuramente complicata perché insomma un parkour con con queste auto è strano però li trapasso si perfetto la fortuna mi ha aiutato non mi buttare giù mentre cadi allora ci provo ragazzi e qui diciamo è tutto strano perché ok vai va bene sta andando avanti sta andando avanti è tutto strano ragazzi perché c'è il tempo come se nevicasse più o meno e ovviamente il veicolo comunque è un po' bruttino per fare i parkour comunque andiamo avanti ok andiamo adesso da quest'altra parte quante rampe sono queste ah ok abbiamo abbiamo praticamente finito vai così ok perfetto direzione checkpoint vai 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 ok ragazzi ce l'ho vediamo qua uh c'è stato il rallentamento ok ci sono piano 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 tutto a destra mamma mia qua cose luminose il tempo credo siamo dato non lo so ragazzi penso proprio di si penso proprio di si vai centrale ok ce l'ho piano 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 mamma mia qua è facilissimo perdere il controllo vai andiamo a sinistra ragazzi altra freccia al contrario ok diciamo che gli altri hanno sbagliato infatti siamo passati dalla quarta alla seconda posizione frena 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 mamma mia ok perfetto andiamo a prendere il checkpoint e si ragazzi siamo in seconda niente c'è il primo proprio il primo va il primo va e non lo fermi almeno per ora vediamo se magari cadi in qualche modo potremo recuperarlo vai a sinistra ok ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ok ragazzi è ricomparso ce l'abbiamo ce l'abbiamo il primo ragazzi è qui il primo è qui ora ci vuole un altro bel colpo di fortuna vai mamma mia andiamo andiamo con calma vai a destra ok ce l'abbiamo abbiamo una serie di rampe praticamente uguali tutti uguali ok mamma piano 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 no 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 non cadere non cadere non cadere ok ragazzi no non è vero non è ok vabbè mamma mia certo che sto fuoristrada fa veramente pena diciamo ok perfetto ragazzi ce l'ho e quello diciamo è caduto e ora devo aspettare lui però vediamo vediamo che cosa fa ragazzi o che ce l'ha fatta e allora andiamo avanti gira uh sì allora diciamo che diciamo che il veicolo è il problema effettivamente sì ragazzi che tipo ci si bug nelle cose non lo so vediamo se qua ce la posso fare tranquillamente sì dai va bene abbastanza tranquillamente è caduto no ok ero passato in prima ragazzi ma niente le illusioni che da gta questa l'ho presa un poco male vediamo se riesco ok ce l'ho ancora ce l'ho ancora andiamo a sinistra con calma uh cioè quello non cade impressionante sto facendo tutto ragazzi praticamente benissimo ma niente quello non cade vai andiamo col paragadute corri 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 velocità allora io non so forse adesso sì sì c'è un'altra parte comunque di parkour e credo sempre con quel veicolo ragazzi allora salta perfetto vai è caduto è caduto calma salta uh è qua salta no vabbè cioè quello cade che è strano è strano che cadere perché quello è sempre primo e purtroppo cado pure io allora io lo faccio tutto veramente in tranquillità qua perché se no se vado veloce ragazzi e corro purtroppo ci rimaniamo fregati quindi in tranquillità vai così ok mamma mia tutto all'ultimo tutto sempre all'ultimo secondo salta ok piano vai qua salta ancora perfettissimo vai ora ok ragazzi l'ultimo non mi sbagliare l'ultimo salta perfetto ragazzi e qui abbiamo il checkpoint prima posizione ok abbiamo quest'altra zona diciamo molto più molto più semplice almeno non lo so ok si 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 semplicissimo ragazzi allora qui c'è il primo eh si purtroppo purtroppo è primo ragazzi andiamo in stealth ok quest'ultima parte era leggermente diversa allora dopo cosa abbiamo abbiamo niente sempre ragazzi però è un parkour così a piedi e dopodiché si il prossimo checkpoint è è il veicolo ok mamma mia qui cadere è veramente veramente facile diciamo che purtroppo gli errori si pagano quindi io sto rischiando qui tanto però dobbiamo andare prima purtroppo sono caduto ok c'è di nuovo ragazzi il fuoristrada allora la freccia dice di andare in basso va bene andiamo in basso come così ok si boh tutto strano vai uh arriva il checkpoint arriva il checkpoint ci sono arrivati effettivamente 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 ragazzi ci sono arrivato però sono esploso cioè ero in prima che poi quelle cose lì ok sono di nuovo in prima quelle cose lì ragazzi diciamo scoppiano quindi come ha fatto a saltare in aria l'auto ah perché sotto giustamente c'era c'era la rampa ok 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 va bene andiamo qua perfetto ricompariamo subito dai ragazzi ho la prima posizione non me la posso fare scappare ora andiamo ok allora io se sbaglio qui perché credo che la fine della gara sia vicina ok vai vai riparti 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 se sbaglio qui ragazzi è un problema è un problema perché diciamo il secondo diventerà primo e il primo diventerà secondo poi ok questo è stato perfetto però ho paura per le ruote sinceramente sono tutte storte a sinistra ok allora abbiamo l'ultimo checkpoint e il traguardo ok va bene siamo caduti cadi un po' come ho fatto io no non cade va bene piano piano mamma mia mamma mia veicoli veramente ragazzi incredibili qua su gta vai 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 stiamo andando stiamo andando il checkpoint proprio all'ultimo diciamo a sinistra ok ragazzi ce l'ho il checkpoint è lì sopra quindi se si cade qui ragazzi quello lì io non vado ok adesso si niente non è non è caduta alla fine non è caduto purtroppo vai velocità attenzione ok ragazzi io sto andando sto continuando ad andare piano c'è il checkpoint veramente mamma mia all'ultimo ok perfetto cioè io posso dire che potrei anche uscire dalla gara a questo punto potrei anche uscire dalla gara ma ok il primo a concludere cioè buh vabbè ragazzi non commento non commento cioè ho fatto tutto e non so buh all'ultimo sono andato fuori vabbè impressionante è vero che non gioco da tanto però diciamo così è scandalosa la cosa vabbè ragazzi tanto sono secondo e il terzo non c'è il terzo non credo sia qui non credo assolutamente che sia qui vicino quindi posso andare in tranquillità e basta diciamo il fail c'è stato eppure eppure clamoroso vediamo qua se posso andare avanti perché purtroppo niente sono caduto di nuovo vediamo un po' ok adesso ce l'ho andiamo a prendere il checkpoint vabbè ragazzi diciamo che i troll su GTA sono stato sempre trollato su GTA quindi non è la novità ok turbo prevedibile triangolo impressionante e andiamo a concludere così vai prendilo almeno il traguardo niente neanche il traguardo va bene va bene questo è il mio ritorno su GTA ragazzi trollato proprio fino all'ultimo fino fino all'ultimo impressionante vediamo se posso concludere sta gara mamma mia vediamo vediamo un po' ok seconda posizione ce l'abbiamo fatta dai una bella gara alla fine è stata ragazzi complicata per il veicolo qui c'è gente ancora alle frecce quindi ovviamente diciamo c'è chi è peggio di me c'è chi è peggio di me però sono stato veramente trollato all'ultimo clamoroso clamoroso ragazzi che direi spero che il video vi sia piaciuto abbiamo giocato una gara molto rapida e c'è stata anche la clip bonus che è diciamo una novità dei video e dopodiché abbiamo fatto una gara parkour che avete visto come sono stato trollato diciamo io spero che il video vi sia piaciuto qui a Dexta lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video